Benvenuti a Meteo 5, le previsioni per oggi. Bel tempo oggi e domani su gran parte dell'Italia per il temporaneo ritorno di un'alta pressione. Alla fine di domani invece peggiora sulle regioni di Nord-Ovest, Sardegna e Toscana per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Nel pomeriggio nubi sulle regioni adriatiche al sud, qualche rovescio su Abruzzo e Puglia, ventoso al sud e isole maggiori. Nella sera un po' di nubi al centro-sud, qualche rovescio sul Salernitano. Nella notte nebbie sparse al Nord e Toscana, qualche rovescio sul Salernitano. Al mattino ancora nebbie al Nord e Toscana, qualche pioggia sulla Puglia. Dati servizio Meteo Aeronautica, elaborazione grafica Epson.